Altra puntata ricca di ospiti e immagini, quella di Zona Calcio in onda stasera alle 21 su Tele Libertà. La Folgore sarà la formazione ospite della trasmissione condotta da Nicoletta Marenghi con gli opinionisti Paolo Gentilotti, Corrado Todeschi e Marcello Tassi. Vedremo le immagini di Propatria Pro Piacenza, Piacenza Fiorenzuola, Fidentina Carpaneto, Gotito Picardo e Savorè, Lanchinarese Castellana, Folgore Lugagnanese, Alsenese San Nazarese e Niviano Travese. Sarà ospite in studio anche il centrocampista francese del Piacenza Antonito Gordò. Ha suscitato curiosità la rubrica Le donne del calcio, curata da Marzia Foletti che stasera vede protagonista Michela Campo Minosi, fidanzata del capitano del Propriacenza Francesco Bini. L'attuale allenatore del Carpaneto, Settimio Lucci insieme a Gianni Rubini nell'Amarcord, rivivrà il Piacenza ai tempi della Serie A. Per contattare la trasmissione sms al 335 74 22 274, whatsapp al 335 54 38 909, email zonacalcio.tv, twitter at teleriberta hashtag zonacalcio live, facebook teleriberta piacenza.